I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo in un'attività congiunta con la soprintendenza del mare, con l'ausilio dei carabinieri di Favignana, del nucleo Subacque e di Messina e grazie anche all'intervento dell'equipaggio della motovedetta CC811 Pignatelli e del battello pneumatico CC405 del distaccamento navale di Favignana, hanno recuperato a largo delle acque antistanti la località Bue Marino dell'isola di Favignana tre anfore fittili italiche del IV secolo a.C. e un'anfora fittile punica del III secolo a.C. quasi certamente appartenenti a un relitto naufragato. L'intervento è stato sviluppato dalle unità subacque dell'arma e della soprintendenza del mare che hanno scandagliato il fondale individuando le importanti anfore sulla scorta delle indicazioni fornite dagli archeologi dell'ente regionale e dei carabinieri del nucleo tutela di Palermo. A conclusione delle operazioni, gli antichi manufatti sono stati consegnati ai funzionari della soprintendenza del mare. La località del ritrovamento, ritenuta di rilevante importanza, è al vaglio degli archeologi per le relative valutazioni scientifiche, poiché da un successivo studio dei materiali recuperati potranno essere acquisiti importanti indizi sulle rotte di navigazione per il collegamento lungo la costa tra le varie città mediterranee in un periodo storico di fondamentale importanza per gli scambi commerciali. Grazie.